Ued, l'ordine delle scelte, Giulia il 29, Andrea il 30 e Angela il 31 maggio Stando a quello che riporta Vicolo delle news, la prima a scegliere dovrebbe essere Giulia, chiude la stagione di Uomini e donne la Nasti Giulia forse la prima a fare la scelta, l'indiscrezione del web Dopo aver avuto la conferma ufficiale che le ultime tre puntate di Uomini e donne saranno in diretta, non ci resta che scoprire quale sarà l'ordine cronologico con il quale i tronisti saranno chiamati a prendere una decisione finale tra i loro corteggiatori A riportare un'interessante anticipazione a riguardo, è stato il blog Vicolo delle news, nelle ultime ore, infatti, sul web ha iniziato ad impazzare il gossip secondo il quale la prima a scegliere sarà Giulia Cavaglia Stando alle indiscrezioni che sono arrivate all'orecchio di chi scrive per queste sito, la puntata del trono classico di mercoledì 29 maggio dovrebbe essere dedicata alla bella torinese, chi preferirà tra Giulio Raselli e Manuel Galiano? In rete, inoltre, si legge anche che il secondo protagonista di Ued a fare la sua scelta dovrebbe essere Andrea Zeletta, giovedì 30 maggio, mentre a chiudere la stagione 2018-2019 del dating show dovrebbe essere Angela Nasti, venerdì 31 maggio Quello che sostiene il blog appena citato, è che la redazione avrebbe deciso di rispettare l'ordine con il quale sono stati registrati i weekend in Villa dei Trettonisti, ovvero prima Giulia, poi Andrea e infine Angela Angela tra Luca e Alessio, Andrea tra Claudia e Natalia Qualora le cose dovessero andare realmente come ha anticipato Vicolo delle News in queste ore, vorrebbe dire che il pubblico assisterà alla scelta di Giulia Cavaglia il 29 maggio, la puntata di Uomini e donne che andrà in onda in diretta su Canale 5 tra quattro giorni, dovrebbe essere interamente dedicata alla decisione della torinese tra Giulio Raselli e Manuel Galiano Il giorno dopo, dovrebbe toccare al contestato Andrea Zeletta, il tarantino, infatti, dovrà comunicare a Claudia e Natalia chi di loro ha conquistato il suo cuore dopo oltre cinque mesi di conoscenza e corteggiamento davanti alle telecamere A chiudere la stagione del trono classico, dovrebbe essere la bella Angela Nasti, la 20enne, infatti, è chiamata a decidere chi tra Alessio Campoli e Luca da Fre sarà il suo nuovo fidanzato Secondo gli affezionati spettatori di Uomini e Donne, a spuntarla alla fine saranno, Giulio, Natalia e Luca Avremo delle sorprese tra il 29 e il 31 maggio prossimo